Si è completato l'atto finale con una farsa. In riunione di Capigruppo il Partito Democratico ha deciso di strozzare il dibattito parlamentare, ha deciso di strozzare anche le dichiarazioni di voto per quanto riguarda la fiducia. Ci saranno le dichiarazioni di voto domani alle 17.20 e alle 19 ci sarà la chiama per quanto riguarda la fiducia. La cosa oscena è il fatto che mentre eravamo in Capigruppo a discutere di questo maxi emendamento del governo era già su tutti gli organi di informazione online e quindi l'abbiamo saputo non direttamente dal governo ma l'abbiamo saputo guardando internet. Ancora una volta il Partito Democratico ha dimostrato che su questo provvedimento ha deciso di fare di testa sua e ancora una volta ha sbagliato, rimarrà col cerino in mano.